Non funziona il tasto! E preparatevi a questa carrellata di ringraziamenti a Donna Carola a me a Elsa a Jack a Giovanni alla piadineria Iris e al drago di Rivabella all'American Park di Saltarelli a Mamibistro i Cavalieri il bagno micchi numero 7 Mirabilandia alla sala giochi di Rivabella e alla cremeria del mare agli autogrill a gratis ai commercianti del luogo alla signora che mi ha fatto le treccine nel volume 1 al centro commerciale Le Befane a Gianni Trudi al Residence Mediterraneo all'Hotel Ivano e a Villagori alla pazienza di Donna Carola all'aria condizionata all'aria condizionata a Rinaldini e alla mia famiglia soprattutto godetevi l'ultimo episodio parte 1 scritta e diretto dalla Big Chaos Family Amici del mio viaggio a Rivabella buongiorno ci apprestiamo a vivere l'ultimo giorno di mare chiudendo con il botto esagerato stasera Gianni Trudi si è proprio lui quello della canzone ehi tu fichi fichi con me facciamo fichi fichi insieme la macchina è già qui che ci aspetta ma non è ancora il momento abbiamo ancora un po' di cose da fare prima fra tutte la colazione andiamo a recuperare il resto della Big Chaos Family e poi tutti a fare colazione la città si risveglia distrutta dopo la notte rosa di ieri che poi non è finita perché si continua anche stasera e mentre qualcuno non è ancora uscito dalla festa facciamo l'ultima colazione del mare bravi eccoli la mamma preoccupata fischia alla figlia la chiama saluto Romano rifai il saluto Romano guardala guardala torna in acqua ma io che sono bruciato e non posso stare al sole ma che mi frega guarda come si sta bene sotto l'ombrellone sull'astraio e mi scaccolo anche no mi gratto il naso c'è un bel venticello oggi voleva fare il massaggio romantico l'ultimo giorno di mare è nuvolo e c'è anche la bassa marea bellezze al bagno bellezze al bagno cosa vuoi? puoi scendere? puoi scendere? dai elsina gioca fai ciac 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 gira gira al mondo siamo nell'acqua nuota fai vedere come nuoti che brava c'è anche il bagnino ci mancherà tutto questo o se ci mancherà Elsa ci mancherà tutto questo bellezze al bagno e poi mi chiedo io sono qui in acqua chissà quant'altra gente sta riprendendo io finirò nei loro video la skyline vista dal mare di riva bella Mussolini torna in camera a mangiare torna in camera aspettando Gianni Trudi aspettiamo Gianni Trudi sciacquiamo i piedi palla fresca anche l'altro la piazza si prepara per Gianni Trudi mitico semaforo a tempo di riva bella Gianni Trudi adesso andiamo in sala giochi a cambiare questi pochi ticket e vedere se vinciamo almeno una spilla avviamoci verso la sala giochi manco cento manco cento vediamo se vinciamo verso un pacchetto di patatine abbiamo vinto una pallina rimbalzina e una matita con gli unicorni stanno facendo le prove per stasera buonasera buonasera signorina l'ultima spiaggia e questo è quello che resta Elsa vuole fare l'ultimo bagno e noi chi siamo per dirgli di no quanta poesia c'è nel mare e quanta poesia nella gioia dei bambini ognuno di noi ha il suo mare questo è il nostro grazie riva bella ma cosa hai fatto? chi ha buttato la pallina per terra? Jack Jack ciao mare la serata non è ancora finita ci sono già i primi occupanti sta per arrivare Gianni Trudi sta per arrivare Gianni Trudi chi? te sa chi? e adesso passiamo a prendere le piadine da portare a casa perché anche solo una singola piadina portata a casa di quelle di Iris può rendere migliore l'inverno non è ancora finita ma non ci sono più cose sui animali le piadi ovviamente vado a fare il video ferma papa non mangiamo le piadine se adesso andiamo se adesso andiamo se non si so e se non si so